850 telecamere intelligenti in grado di riconoscere automaticamente targhe e persone sono pronte ad accendersi in provincia di Siena grazie a un progetto di videosorveglianza finanziato dalla regione toscana con 500 mila euro e al centro di un incontro con sindaci e prefetto per fare il punto sull'operazione. L'intervento fa capo interamente sia per la progettazione che per la realizzazione a terre cablate, il consorzio nato nel 2002 per la fibra ottica che riunisce tutti i comuni e la provincia. Le 850 telecamere copriranno più di 300 aree di ripresa in 34 comuni funzionando da deterrente per chi vuol delinquere e aumentando la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. La polizia municipale e le forze dell'ordine potranno monitorare la viabilità, le stazioni ecologiche e tutto quello che succede in strada. Ma non solo, la rete di telecamere potrà essere utilizzata anche per la protezione civile in caso di eventi meteorologici avversi o altre calamità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.